Dalle prime ore del mattino in Rosse e il comando provinciale dei Carabinieri di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica Capitolina, stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni nei confronti di soggetti appartenenti alla struttura eversiva Federazione Anarchica Informale, fronte rivoluzionario internazionale, ritenuti responsabili di una serie di attentati e danneggiamenti ai danni di istituti di credito, esercizi commerciali e sedi periferiche di Enel e Deni, compiuti in provincia di Roma negli ultimi tre anni. Grazie a tutti!